Musica Allora presto, beviamo e mangiamo con tutti i sensi la bellezza e la verità che ci sono in Platone, Mozart, Leopardi, Van Gogh, Einstein o saremo grassi di bugie come ho che da sgozzare nelle cucine del futuro? Musica Una vera e propria mutazione antropologica che fonda sull'isolarsi, che mentre ci illude che stiamo insieme ci rende invece più che mai solitari Ribellarsi all'invasione della tecnologia, all'abuso di relazioni virtuali che aumentano le distanze reali fra le persone e mortificano le emozioni e la struttura dei pensieri La giornata della disconnessione, fissata per il 21 marzo e presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo, è un invito ad uscire in strada, ascoltare musica, andare a teatro, ad abbracciarsi e baciarsi, godere del contatto umano, della bellezza dell'arte e della libertà dello spirito Si potrà andare a cinema a metà prezzo, si può andare alla mostra di Dalì a metà prezzo, si può andare a sentire musica, canto, teatro, fare passeggiate insieme con visite guidate Insomma, una giornata dedicata alla bellezza e al poterla vivere in modo diretto e personale Un opulento programma di iniziative attraversa la giornata che l'UNESCO ha dedicato anche alla poesia Dalle letture collettive in riva al mare, ai concerti, dalle visite gratuite allo yoga Madrina dell'evento è l'attrice napoletana Chiara Baffi Il mio lavoro è questo, offrirsi, però c'è bisogno di qualcuno che accolga, che quindi sia disposto a stare insieme a me Ed è molto importante, secondo me, anche da spettatrice, lo dico, dedicare un po' di tempo all'arte, alla cultura Un tempo pulito, libero, libero da intromissioni Disconnettere vuol dire anche entrare dentro se stessi La musica aiuta, non è un linguaggio di parole, non è un linguaggio di segni La musica buona si ascolta addirittura con gli occhi chiusi